...agli uomini vecchio stampo, quelli che ancora sanno riparare le cose a casa e quelli che corteggiano alla vecchia maniera e ci piaceva un po' riderci su, su questa generazione un po' strana di cose un po' omeopatiche, no? Basic man E' un po' omeopatiche 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 Sì, 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 sì. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie.